Spartan, push up. Questo esercizio, è una variante molto avanzata del push up. Petto leggermente sollevato dal suolo. Una mano in linea verticale con il gomito, in modo da far formare al braccio un angolo retto. L'altra mano è leggermente arretrata, rispetto al pettorale. Datevi una spinta esplosiva verso l'alto, ed invertite la posizione delle mani, prima che queste ultime ritornino a toccare il suolo.